Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo nuovo video di Syndicate Siamo a New York nel 2069 Vedremo cosa ci aspetta al nostro chilo Dopo averlo lasciato sul treno lì ad affrontare il bestione lì Grazie Ok Vediamo un po' Che bel posticino qua Giorno, salve Ehi tu amico Ehi Ho sentito che lanceranno presto la versione consumatori del chip Dart 6 Ma va? Sì, nuovo software Dart, remember, sembra eccellente Remember? Molto meglio delle vecchie versioni Ma dai Ok Ehi tu Fammi entrare Chilo Grazie per essere venuto Facciamo un giro Va bene Gran lavoro alla Spali, vero? La storia di Droll è stata scioccante Avrei dovuto prevederlo Era da un po' che condivideva informazioni con Chang Ora, con lui fuori gioco e i file cancellati Abbiamo recuperato forza Ma siamo ancora vulnerabili Firma qui, Jack Firma qui, Jack Stupida troia Non presentarti all'improvviso Non mi piacciono le sorprese Capito Il mercato è a uno snodo critico E si prepara a una guerra tra le coalizioni La Cayman Global ha mostrato i muscoli Con quella storia del canale di Panama E gli sviluppi della tecnologia chip Che sono la prima linea dello scontro C'è l'ovvio rischio di una diserzione di Droll Ora, non possiamo permettere che accada Però è una risorsa troppo utile per eliminarla Ok Jack Sto ancora aspettando quelle cifre Mi stai nascondendo qualcosa? Scusa, dovrei avere qualcosa a fine giornata Bravo Il che ci porta al problema attuale Guardala Una mente biotecnica eccelsa Non è che lo vedo bene il tipo Vai pure Avvia la procedura Ricorda che tutto questo è confidenziale Lasciamola nel dubbio Ok Ok Tilt Merit Coglione Ciò coglione Non sono sicura I nuovi chip sono potenti E le connessioni vecchie Una crisi Quello che temevo Che cazzo sei? Piletto Chilo Tienilo fermo Eh sì Tienilo fermo Non posso sparare in testa Fa presto Merda Stiamo perdendo tempo Ma che cazzo Ecco Oh Cristo Convulsioni delle tracce di memoria Smetterà Ma niente più potenziamenti per lui Ma che cosa mi hai fatto? Come ti senti? Mi sento come se mi avessero pugnalato al petto E' a posto Jack Per quanto possibile Grazie Muoviamoci Molto bene Ascolta Chilo Metterò insieme un pacchetto Per convincere la dottoressa Droll A restare con noi Ma nel frattempo Dobbiamo tenerla d'occhio Assicurati che non decida improvvisamente Di tentare la fortuna a Ovest Quindi tu e Merit La sorveglierete Per qualche giorno Andrò ad aggiornare il team di setup Soprattutto Chilo Tieni Lily lontana dalle grinfie del nemico Con qualsiasi mezzo Ricevo protocollo di aggiornamento Eurofort Se lo dici tu Una volta che questo sfortunato affare sarà stato portato a termine Faremo una chiacchierata sul tuo futuro E per come la vedo io Sarà radioso Molto radioso E va bene Molto radioso Oh il Data Space Fighissimo sto Simulazione tattica Spazio Dart Avviata Attivazione test prestazionale Applicazione persuasione Dart 6 Questa applicazione Forza un portatore umano di chip A combattere per te Per un breve periodo Entra nell'area di allenamento Per iniziare il test Inizio Test Attivazione Applicazione persuasione Ma fighissimo La persuasione Si Ma dai Figo Dai 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 Si 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 Dai che voglio fare Ma dai cazzo Questa sfida Combina l'uso delle armi da fuoco E dell'applicazione persuasione Inizio Sfida Devi proteggere il corriere Mentre si sposta Tra le zone sicure Dello scenario È vitale Eliminare le minacce E attirare il fuoco Lontano dal corriere Avrai munizioni Avrai munizioni limitate Ok Viola il segnale Della zona sicura Per avviare lo scenario Vai corriere Speriamo che non ci resta secco Bene Ok Viola il segnale Della zona sicura Per continuare Prestazione perfetta Il corriere è sopravvissuto Ed è in buona salute Ottimo Esci dalla simulazione Ok design Play Sperat 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 Grazie a tutti. La gente Merritt. Ok, allora dovremmo andare a cercare l'agente Merritt. E dove mingashtai l'agente Merritt? Cos'è che scritto lì? E il chip, sì. Non è il chip della menge... Cazzo me ne frega del chip. Ok, allora... Eheh, fichissimo. Ho aperto la tenda. Facciamo entrare un po' di sole. Ma stai calmo, faccia di culo. Qui. Ehi tu. Mi sono fermato a farmi la canna e non rompere. Dico sto cosa. Ecco. Tutto a posto. Dai un'occhiata. Io do un'occhiata. Ok, ecco i fatti. È arrivata a casa 15 minuti fa. È in funzione il monitoraggio standard dei cittadini. Oh, e stavolta sei tu il capo, Kilo. La nuova rete neurale è ancora in crescita, o così dicono. Io mi occupo dell'ambiente circostante e tu di lei. Fortunato bastardo. Eh, sì, eh. Violazione a distanza attiva, Kilo. Localizza il sistema di monitoraggio cittadini. Va bene. Io sono Kilo. Kilo! Rinfraccio il chiamante. Ascolta, signora. Senti, ora devo scappare, signora. E dove vai, Kilo? Beh, per iniziare fuori da questi vestiti e in un bel baglio caldo. Ok, lascia perdere l'ambiente. Senti, lo sai che me ne occupo per te? Certo. Sei una grande amica per me, Simon. Lo sai? Devo andare. A presto. Si tratta di Simon Bills, età 31 anni. Single. Dirigente Mesh, archivicione. Single. Bene. Non possiamo fidarci di lei. Interessante questa... Informazione. Drul. Non mi che vuoi. Non abbiamo niente di cui parlare. Ora vi attacco prima che rintraccino la tevala. Non prendertela perché ho ragione, devi. Non fare il coglione, Chris. Sono stanca del tuo stronzato. Ti stanchi, eh? Che linguaggio, tu. Non è giusto. Ho rischiato tanto quanto... Ho rischiato niente. Tu stanchi le collezioni, eh? Vaffanculo, Chris. Sono perché non voglio che scorra del sangue, pensi... Porca troia. Oh, porca puttana. Bene, bene. Ottimo. Oh, perci il casino. Oh, no. Identifico. Cayman Gloman. Squadra di recupero segrete. Eh. Porca puttana. Aspario Cayman non importa. Lei è nostra. Oh, capito. E che minchia, sei agitato. Oh. Tu ho pigliato questo. Sono il tuo cecchino di supporto. Ti copro le stalle. Oh, questo è un po' posto, allora. Ok. Vediamo un po' che c'è qua dentro. Che cazzo di cabinetto è mica grande come la mia cana stanza, cazzo, sto coso. Bene. Un minuto. Aspettate, tocca, tocca. Oh, porca lì, che petto. Cazzo. Ma va, 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 fa un culo. Dove c'è? Oh, è entrato alla finestra. Non so cosa ho sparato. Non so cosa ho sparato. Chi è? E questo? Oh, porca merda. Bel fucile. Chi è? Chi è? Mori. Lì, sto. Sì, no, ma prendilo però, cazzo, il tuo zoom, come che cazzo si toglie? Ecco. Sono troppo vicino, forse lo zoom non va bene. Aspetta. Tutto. Ok. C'è mica là su un'altra. Ma vai a caccare. Pam, ping, padabam. Pam. Vabbè. Vabbè, devo ricordarmi il tasto per mettere lo zoom al mirino. Ehm. Agence individuato. Yeah. Pam. Uuu. Tra l'altro quando si usa lo zoom, può sparare attraverso le cose. In teoria. Forse non da per tutto. Cazzo, questo è blindato, minchia. Eh, crepa. Crepa. Super blindati. Yeah. Devo andare da sbirciata qua. Ok, non c'è niente. Ehi tu. Vabbè. Oddio. E' un cazzo andato con l'altro. Eccolo lì, eccolo lì. Che cazzo fa? Si era bloccato lì, sto stronzo. Attenzione. Oh, merda. Violazione nemica. Shine. Shit. Sì, no, però è adesso cazzo. Eh, come ne faccio del crollo strutturale? Ah, ok. Ci passo attraverso. No, va bene. No, 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 bene. Dove sei? Questi bastardi se ne vanno. Oh, Cristo. Ma tu sembra rompermi... I pi... Dove sei? Perché ci metti? Bla, 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 bla. Ti riturrò. I soccorsi arriveranno presto. Promesso. Promesso. Grazie al cielo. Puoi aiutarci. Certo. Erano troppi, non potevamo fare nulla. Eh, sfigati. Una gente ha preso la drol dall'unità 33. Ma dai. Sono andati di là. 33. Eh, io vado. Vabbè, questo gameplay finisce qua, ragazzi. Vi aspetto ai prossimi. Ciao, ciao da GeneticDNA. Grazie a tutti.